Sia per attrattive turistiche, sia per possibilità economiche di sviluppo dei traffici, il Golfo di Napoli ha tutte le caratteristiche per collegare le realtà territoriali che si affacciano sulla linea di coste e sulle isole, potendo far nascere un sistema a rete per dare slancio a tutte le attività economiche collegate. Se ne discute oggi e domani al Castel dell'Ovo, in un convegno che punta a coordinare le risorse politiche, economiche e strutturali anche per superare il nodo del riparto di competenze. Per dare la possibilità a Napoli, alla nostra città, di riprendere un posto che gli spetta proprio storicamente, quello di cercare attraverso questa rete, di fare diventare la nostra città il centro dell'attenzione del Mediterraneo. Stiamo lavorando in un altro modo, non di sovrapporre le competenze, ma tutti insieme di condividere. E per importanza strutturale, collocazione geografica e potenzialità di sviluppo, uno dei soggetti principali che nel prossimo futuro sarà protagonista delle agende politico-economiche è senza dubbio il Porto di Napoli. Ci sono occasioni straordinarie che è quello dell'investimento del grande progetto Porto, oltre un miliardo di euro, sul quale bisogna andare più rapidi. Adesso ci sarà anche un cambio di guida dell'autorità portuale. Porto poi deve abbattere, e questo è compito di tutti, le mura che per troppo tempo l'hanno separato dalla città. C'è quasi una distanza, certe volte, tra il Porto e i suoi cittadini. Bisogna fare come è stato fatto a Barcellona e in altri posti. Porto come luogo di vita, di frequentazione, di attività commerciali, attività ricreative, musicali. Una grandissima opportunità e una grandissima realtà bisogna utilizzarla al meglio, ma la strada a intraprese è quella giusta.